Ciao amici di Spezia TV, noi siamo sempre qui a Spezia in via Prione, a fianco a me c'è Marina che ha aderito a questo progetto di Muscolino, qui c'è Muscolino, siamo nel suo negozio in via Prione. Sì, ho aderito al progetto perché la città aveva comunque bisogno di un'identità e Muscolino giustamente mi sembrava la cosa più adatta per dare un'identità alla città, abbiamo fatto anche un braccialetto proprio del Muscolo dedicato in onore anche di questa cosa, insomma siamo tutti Muscolino. Ecco, tu hai una bella vetrina di Muscolino così quando vengono i turisti, chi vuol comprare o così Spezzino stesso, bello, cioè all'esterno si vede tutto quello che i gadget di Muscolino, giusto? Esatto, sì, la produzione di Scilla che è appunto sia il pupazzo, il portachiavi piuttosto che magari la tazza e poi abbiamo fatto questo che è praticamente un braccialettino fatto in argento, riprodotto da un Muscolo vero naturalmente. Cerchiamo appunto di dare un'identità come dicevo prima alla città, ecco, un gadget che comunque prima non si poteva trovare, i turisti magari chiedevano qualcosa e adesso naturalmente abbiamo fatto anche il faro di spezie, insomma stiamo cercando di dare un qualcosa in più, un valore aggiunto alla città. Un qualcosa di originale, è tipico. Ciao, auguri da Muscolino. Ciao, grazie.